Virgo Potens, Vergine Potente La Madonna, nell'atteggiamento odiorante, si affida completamente a Dio. Riconoscendo la debolezza umana, ha rimesso tutto nelle mani del Padre, le grandi mani azzurre. Questo riconoscimento, Luca 1,18, è la potenza di Maria. Nel grembo di Maria è la Chiesa orante, e nelle sue mani le nostre preghiere fatte carne. A suoi piedi le armi, infrante del nemico.